Siracusa, avvertenza petrolchimico, la politica regionale e nazionale si dia una svegliata. Il polo petrolchimico è presente e futuro per Siracusa, ma non solo. Questa non è una avvertenza locale, ma regionale e nazionale. I lavoratori meritano certezze e rispetto. La politica esca fuori dalla prigione dorata della campagna elettorale permanente e produca fatti. Individui, risorse, assicuri finalmente condizioni di sviluppo. Diversamente, siamo pronti alla mobilitazione. Luisella Lionti, segretaria generale della UIL Sicilia, ieri pomeriggio nella sede di Viale Teocrito ha riunito un attivo sindacale cui hanno preso parte anche il segretario generale della UIL Pensionati Sicilia, Claudio Barone, e Ninetta Siracusa, componente della segreteria regionale UIL. Presenti i tre segretari territoriali della FPL, Alda Altamore, della Feneal, Severina Corallo, della UIL Tux, Anna Floridia, della UILM, Giorgio Miozzi, della UIL Tech, Sebbiacolla, e della UIL Trasporti, Silvio Balsano. Tutti gli interventi hanno sottolineato i timori per un effetto domino di devastante portata occupazionale e sociale che produrrebbe sul tutto il territorio il ridimensionamento o peggio del petrolchimico. Rivendichiamo, hanno aggiunto risposte da Stato e Regione per questo comparto, così come per altre realtà che sono fonte primarie di reddito e qualità della vita a Siracusa. L'edilizia è in attesa di chiarezza sui bonus e il turismo, che certo non ha ancora espresso il massimo delle proprie potenzialità, ma anche pubblico impiego e sanità, infrastrutture e mobilità che sono requisite indispensabili per ogni politica dello sviluppo. Luisella Lionte ha inoltre ricordato le battaglie di civiltà che la UIL sta conducendo per dare sicurezza ai lavoratori, mentre ancora in queste ore si registrano in tutta Italia incidenti mortali e per liberarli dall'incubo della precarietà. La segretaria generale della UIL Sicilia, infine, si è soffermata ancora sulla crisi del petrolchimico. Siamo sempre più preoccupati, la guerra in Ucraina e la crisi del governo allarmano tutto il settore industria, rischiano occupati diretti e l'indotto, rischiano migliaia di famiglie nei palazzi di Stato e Regione, quindi si dicono una svegliata e scoprano la realtà che li circonda per assicurare finalmente piani concreti di progresso.